Prima di iniziare a svolgere gli esercizi sulla dinamica del punto materiale ci ricordiamo quali sono le equazioni fondamentali che regolano appunto dalla dinamica. Abbiamo visto che se abbiamo un punto materiale che ha una certa massa m e su questo agisce una serie di forze che hanno come complessiva risultante la f, quindi la sommatoria delle f con i che agiscono sul nostro corpo equivale a un'unica forza risultante, f, questo punto materiale si muove con una certa accelerazione dovuta a tale forza e il legame che c'è tra accelerazione e forza è data dalla relazione f uguale m per a. Questo ovviamente è una relazione vettoriale tra il vettore forza e il vettore accelerazione. Abbiamo anche detto che in assenza di forze abbiamo quello che si chiama condizioni di equilibrio, quindi se la somma delle f con i è uguale a 0, quindi il risultante complessivo a questa forza f ha risultante nulla, evidentemente l'accelerazione sarà anch'essa uguale a 0, quindi la velocità sarà una costante e questa è quella che si chiama condizione di equilibrio, condizione di equilibrio. Nel caso in cui questa velocità come valore costante ha il valore 0 si parla di equilibrio statico, quindi diremo che il nostro punto materiale è in equilibrio statico. Per risolvere gli esercizi, i problemi che hanno a che fare con la dinamica del punto materiale, dobbiamo più o meno immaginare di seguire un certo processo. La prima cosa che dobbiamo fare, ovviamente il primo passo è quello di individuare il corpo su cui vogliamo determinare il moto, quindi il primo punto è individuare bene il corpo, il punto materiale, quindi con la sua massa m. Successivamente dobbiamo costruire quello che si chiama il diagramma di forza libera, ossia individuare le forze che agiscono, individuare tutte le forze che agiscono, tutte le forze che agiscono sul nostro punto m, quindi fare quello che si chiama il diagramma delle forze, diagramma delle forze, o prende anche il nome di diagramma del corpo libero. Una volta che abbiamo individuato tutte le forze, ovviamente siamo in condizione di individuare qual è l'effetto di queste forze, che sarà appunto un'accelerazione. Prima ancora di fare questo, ci conviene a questo punto, una volta individuate le forze, scegliere opportunamente un sistema di riferimento, quindi scegliere un sistema di riferimento, quindi normalmente un sistema cartesiano di assi x e y, lo possiamo scegliere opportunamente in modo da semplificarci poi la risoluzione dell'esercizio, e quindi una volta trovato scelto il sistema di riferimento, possiamo scriverci le equazioni del moto, quindi scrivere le equazioni del moto che saranno ovviamente del tipo f uguale m per a, ovviamente una relazione vettoriale che poi può essere scritta anche sotto forma di relazioni scalari in x e y, eventualmente anche in z, ovviamente il nostro sistema di riferimento è un sistema tridimensionale, quindi questa relazione la possiamo scrivere in x, y e z, la possiamo trasformare in tre relazioni scalari in x, y e z. Quindi una volta trovate queste equazioni dobbiamo risolvere, quindi risolvere il moto, quindi risolvere le equazioni e in questo modo determinare il moto, determinare il moto, che può significare o calcolarci l'accelerazione qualora l'esercizio ci richiede di calcolarci l'accelerazione o ad esempio calcolarci le forze qualora l'esercizio per esempio ci imponga di trovare il sistema di forze tali di avere una certa accelerazione che può essere più o meno, che può essere diversa da 0 o uguale a 0 qualora ci troviamo in condizioni di equilibrio. Una volta trovate le equazioni, risolte le equazioni e trovato quindi il moto del sistema, possiamo ovviamente verificare, quello che conviene far sempre, verificare le equazioni che abbiamo scritto. Questo ancora prima di iniziare la risoluzione bisogna verificare se le equazioni scritte sono corrette da un punto di vista dimensionale, cioè assicurarsi che da una parte e dall'altra delle nostre equazioni siano sempre presenti membri che siano omogenei fra di loro, quindi che abbiano le stesse dimensioni fisiche. Ovviamente un'equazione di questo tipo, se la forza, nell'equazione del moto, se la forza è costante nel tempo, anche l'accelerazione sarà costante nel tempo e quindi avremo a che fare con un moto uniformemente accelerato e quindi potremmo sfruttare le nostre conoscenze le equazioni che ci descrivono il moto di un coppo uniforme con accelerazione costante, qualora invece la forza dovesse dipendere dal tempo, anche l'accelerazione dipenderà dal tempo e quindi dovremmo agire di conseguenza per risolvere le equazioni, per descrivere il moto del sistema, cioè tener conto del caso in cui l'accelerazione non è costante ma dipende dal tempo. In questi esercizi abbiamo un acrobata con una certa massa che sta nel punto di mezzo di una fune tesa che è lunga 18 metri. La fune nella parte centrale si abbassa di 1,5 metri rispetto alle estremità e viene chiesto di calcolarci la tensione. Quindi avremo la nostra fune che inizialmente era tesa orizzontalmente a causa della presenza del nostro acrobata che si trova qua sopra, evidentemente si fletterà e quindi la situazione sarà di questo tipo, con l'acrobata che è esattamente messo al centro, quindi al nostro acrobata posto qua e quindi ci sarà una flessione rispetto all'orizzontale verso il basso. Allora, ci viene chiesto di calcolare la tensione della nostra fune. Quali sono ovviamente le nostre forze in gioco? Abbiamo sicuramente la forza peso che agisce in questo punto della fune, quindi la forza peso dell'acrobata che è pari alla massa dell'acrobata per g ed è diretta verso il basso in questo modo e poi avremo sicuramente la tensione della fune che è presente in tutta la nostra fune e che in questo punto chiaramente tirerà da questa parte, quindi avremo una T e in quest'altro punto tirerà da quest'altra parte, perché la tensione in ogni punto, è una forza presente in ogni punto che chiaramente tira da una parte dall'altra dal punto stesso. Se immaginiamo di tagliare la nostra corda, mettiamo una molla nel mezzo e avremo una tensione tanto da una parte quanto dall'altra. Quindi su questo punto, su questo sistema che è dato al nostro omino agiscono sia la forza peso che le due, queste due forze uguali, tensione da una parte dall'altra, ovviamente questo è un sistema in equilibrio, poiché il nostro acrobata sta proprio in equilibrio sulla fune, quindi l'accelerazione come vettore deve essere uguale a zero e quindi la forza, la risultante delle forze, la sommatoria delle f con i deve essere uguale a zero, ossia t più t, le due tensioni, questo bisogna chiamarla t con 1 e t con 2 ma in modo lo sappiamo essere uguali, quindi t con 1 più t con 2 più la forza peso come vettore deve essere uguale, devono essere uguali a zero. A questo punto ci possiamo scegliere il nostro sistema di riferimento, immaginiamo ad esempio di disegnare così il nostro sistema di riferimento, questo è l'asse delle x e questo è l'asse delle y, quindi questa relazione vettoriale la possiamo scrivere sull'asse delle x e sull'asse delle y, quindi questo sarà l'angolo θ che è la nostra tensione, la nostra fune forma con l'asse delle x. Allora sull'asse delle x che cosa avremo? La proiezione, questo sarà il nostro t2x, questa sarà la proiezione t1x e poi avremo sull'asse delle y questa proiezione di t con 1 e t con 2 avranno la loro proiezione sull'asse delle y. La m invece si trova tutto sull'asse delle y e non ha componenti lungo l'asse delle x. Quindi sull'asse delle x cosa avremo? La componente t con 2x, t con 2x che è positiva poiché è orientata verso crescente delle x meno la componente t con 1x, perché questa componente, la vediamo qua, è orientata verso opposto rispetto all'asse delle x e più 0 perché non c'è nessuna componente del peso, questo deve essere uguale a 0. Sull'asse delle y abbiamo, quindi questa ovviamente sarebbe la proiezione lungo l'asse delle x di questa equazione. Sull'asse delle y avremo la componente della t2 lungo l'asse delle y che è orientata verso l'alto quindi è positiva, t2y più t1y perché anche la componente di t1 sull'asse delle y è orientata verso l'alto quindi si fa presa positivamente, meno m per g poiché il nostro peso è tutto orientato lungo l'asse delle y ma è diretto verso il basso quindi la sua componente è negativa. Questo deve essere uguale a 0. Quindi in questo modo abbiamo due equazioni che sono queste, nelle incognite t con 1 e t con 2, ma t con 1 e t con 2 sono uguali, quindi in realtà nell'incognito t con 1x e t con 2x, t con 1y e t con 2y, sono tenendo conto che abbiamo detto, visto che la tensione nella corda deve essere unica, il modulo di t con 1 deve essere uguale al modulo di t con 2 che deve essere uguale a t. Allora se questo abbiamo chiamato questo angolo θ, abbiamo indicato con θ questo angolo avremo che t con 1x sarà uguale al modulo quindi a t con 1 per il coseno di θ, ossia t per il coseno di θ, il modulo di t con 1x e t con 1y sarà uguale a t con 2 coseno di θ, ossia t, no, seno di θ, seno di θ, ossia t per il seno di θ. Lo stesso digasi per t con 1 per t con 2x sarà uguale anch'esso in modulo a t coseno di θ e lo stesso digasi per t con 2y sarà anche questo in modulo uguale a t seno di θ. Quindi i moduli sono questi, quindi se questo lo andiamo a sostituire qua dentro ovviamente otteniamo da questa relazione banalmente che t con t coseno di θ meno t coseno di θ deve essere uguale a 0 e questo diciamo ci dà, non ci dà praticamente nessuna informazione, cioè ci dice semplicemente che dato che il sistema è simmetrico alle due componenti lungo l'asse x devono essere uguali a 0, mentre lungo l'asse ly possiamo scrivere che t seno di θ più t seno di θ deve essere meno m per g, deve essere uguale a 0. Questa relazione ci permette di scrivere e di ritrovare a questo punto il valore di t che rimane nella nostra unica incognita, ossia t deve essere uguale a mg fratto 2 volte il seno di θ. Quindi se andiamo a scriverci il nostro seno di θ poi lo possiamo scrivere in funzione della geometria del sistema, poiché abbiamo che questo angolo qui, dobbiamo considerare che questa altezza qua, questo dislivello lo conosciamo, sarebbe, lo possiamo indicare con d, sarebbe il nostro metro e mezzo e questo pezzo qua, questa lunghezza qua, questo altro cateto lo conosciamo perché, anzi questo ipotenuso lo conosciamo perché sarebbe l mezzi che la lunghezza della nostra corda, che complessivamente sappiamo essere lunga 18 metri. Quindi se la nostra corda complessivamente è lunga l, questo tratto sarà l mezzi, visto che l'acrobata per ipotesi è posta a metà, e questo tratto qua, questo dislivello di quando si è abbassato la nostra acrobata rispetto all'estremità è uguale a d. Quindi questo ci permette di scrivere che il nostro 2d, se andiamo a calcolarci quindi il seno di θ ce lo possiamo calcolare da questa relazione perché avremo che l mezzi per il seno dell'angolo è uguale a d, quindi avremo l mezzi che il nostro ipotenusa per il seno dell'angolo θ deve essere uguale a d che è il nostro cateto opposto e quindi seno di θ, seno di θ sarà uguale a d per 2 fratto l, quindi se questo lo andiamo a sostituire qua la nostra tensione t deve valere m per g fratto 2 fratto il seno di θ, ossia fratto d per 2 fratto l e quindi questo risulta uguale a m per g per l fratto 4d. Se andiamo a sostituire il valore della massa, il valore dell'accelerazione di gravità, la lunghezza che è 18 metri, il valore di d che è 1,5 metri, otteniamo 1984 N, quindi è il valore del modulo della tensione della nostra fune.